dottore una scatola di preservativi si mi sembra che siano proprio qui eccoli qua c'è questo e questo qua quale vuole che differenza c'è che differenza qua ce ne sono sei e qua ce ne sono tre no no allora questa qua la tre tre c'è che stanno qua dentro tre ne ha buttati due voglio dire sì sì no dottore preferisco tenerne uno ma comunque la scatola c'è la convenzione da tre cioè se comunque se ne pagano tre voglio dire sì ho capito ma vedi io sto cercando di smettere